Atalanta Inter 2 a 3 siamo passati sul campo dell'Atalanta siamo tornati a vincere finalmente uno scontro diretto contro un avversario di quelle che stanno lassù una vittoria Simo io dico solo che ci voleva una vittoria così finalmente per spegnere tante voci tante chiacchiere per andare verso il mondiale in questo mese e mezzo in maniera tranquilla per poter mettere pressione anche perché questo è un turno di campionato che vedrà tanti altri big match disputarsi nelle prossime ore vedremo che cosa succederà negli altri campi intanto noi siamo lì abbiamo mantenuto intatto il gap dalla vetta ma soprattutto abbiamo fatto quello che ci aspettavamo senza guardare la classifica senza guardare gli altri dovevamo vincere noi e dove non arrivavamo con il gioco arrivare con il carattere con la voglia con l'interismo lo abbiamo fatto e abbiamo portato a casa una vittoria che per me Simo è assolutamente meritata sì hai detto bene ci sono due segnali che mi fanno confermare quello che dici sicuramente ne avresti parlato li anticipo brevemente gli ingressi in campo di Bellanova e di Correa che sono due che di solito a livello anche mentale possono soffrire oggi li ho visti perfetti tutti e due a livello di impatto e anche poi di giocate io ho percepito proprio un inter che era consapevole delle difficoltà è andata anche in svantaggio quindi oltre alla vittoria oltre alla vittoria in trasferta c'è anche un ulteriore rimonta dopo quella col Bologna un inter consapevole che però era anche consapevole della sua forza e aveva una grandissima voglia di vincerla perché proprio se si è lottato su ogni pallone si è combattuto qualcuno ha fatto meglio qualcuno ha fatto un po' peggio però questo si è percepito quindi il discorso che il gruppo ci sia non c'erano dubbi il problema non era tanto il gruppo era proprio l'approccio mentale a certe partite che oggi secondo me è stato centrato poi uno può dire se evitavi di subire il secondo gol era un 3-1 più tranquillo sì ok però l'Atalanta è forte e secondo me non conta molto di più non tanto il fatto di non aver evitato il secondo gol quanto di aver evitato di prendere il terzo una volta che hai subito il secondo ti sei messo sotto ti sei impegnato l'hai tenuta hai fatto tre punti oro oro veramente mamma mia guarda Simo hai detto praticamente tutto hai fatto delle osservazioni che io sfido chiunque a caldo dopo una partita così a fare dei ragionamenti così sensati e così profondi su questa partita una partita sporca una vera battaglia tra l'altro anche qui Simo un arbitraggio per me imbarazzante dell'arbitro Chiffi il calcio di rigore di De Vrij è stato un pollo De Vrij assolutamente sì a me sinceramente questi rigori fanno arrabbiare tantissimo con l'attaccante che va giù pesa 100 kg sei un metro e 90 un 4x4 un armadio vai giù così vabbè a me queste cose fanno arrabbiare tantissimo però De Vrij è stato un pollo ma al di là del rigore l'Atalanta sempre sempre fallosa ogni volta che provi a ripartire fallosa aggressiva pressing eccetera finisce la partita dopo 180 falli tra quelli fischiati e non dell'Atalanta tre ammoniti soltanto nell'Inter io cioè questa cosa anche qui secondo me va detta però partita partiamo male oggettivamente con l'Atalanta che ci aveva un po' ingabbiati però c'era la sensazione che non potevano tenere quel ritmo per tutta la partita e lì noi siamo stati bravi a non sfaldarci dopo il gol preso questo è un grande segnale di maturazione rispetto all'avvio di stagione che abbiamo fatto dove non solo se andavamo sotto proprio potevamo toglierci dalla testa la possibile rimonta ma addirittura se andavamo in vantaggio prendevamo gol l'Inter poi spariva completamente adesso seconda partita consecutiva dove prendi gol e riesci a ribaltare è un grosso problema continuare a prendere gol soprattutto perché arriva ancora una volta da errori individuali soprattutto sia il calcio di rigore di De Vrij che Screener che si perde Palomino anche nel primo tempo aveva rischiato di perdersi Palomino e Onana ci ha messo la pezza Onana altro nome decisivo all'interno di questa partita secondo me e poi lì hai tenuto sei riuscito a ribaltarla potevi secondo me già nel primo tempo sfruttare ancora meglio quell'inerzia positiva che avevi creato andando magari a ribaltarla fin da subito però c'era tanta convinzione nei propri mezzi e qui Simo io mi riallaccio ad una dichiarazione di Acerbi pre partita che secondo me è stata molto importante che mi aveva fatto da un lato ben sperare dall'altro arrabbiare Acerbi che prima della partita aveva detto qualcosa come che avevano capito che la sensazione la sua sensazione anzi era quella di un inter che pensava di essere più forte perché l'occasione le ha sempre avute e le partite le aveva quasi sempre in mano ma mancava la forza mentale e il coltello fra i denti per vincere le partite questo era la frase di Acerbi quindi anche oggi si vedeva un inter consapevole di essere più forte lo ha dimostrato tra l'altro però oggi ha messo anche il coltello fra i denti quindi se io devo indicare un trend dell'inter e interpretare un po i segnali io oggi esco da questa partita molto incoraggiato sicuramente mi fa ben sperare dopo la sosta c'è il Napoli vediamo che cosa succede il nostro focus ora è ovviamente sulle dirette concorrenti per il quarto posto questa è una vittoria che pesa veramente tanto spesso abbiamo parlato del del sassuolo come sliding doors ma anche il campo dell'Atalanta è un campo che indica molto della direzione che prende la stagione sì il campo dell'Atalanta è uno di quelli che storicamente l'Inter soffre nei quali anche in anni molto positivi vedi per esempio l'anno di Murigno mi pare che non arrivarono delle vittorie quindi questo senza dubbio sono d'accordo ne abbiamo commentato anche nella nostra diretta le parole di Acerbi oltre al fatto che Acerbi è sempre molto lucido da quando è arrivato l'Inter nell'analizzare ai microfoni quello che accade questo era sicuramente un qualcosa diciamolo subito da correggere ben prima del 13 di novembre a Bergamo perché comunque l'Inter si è giocata 5 partite contro le big e non ne ha vinta neanche una o meglio 4 questa era la quinta se non sbaglio comunque ci sono stati dei problemi che non so se probabilmente non so che tipo di termine utilizzare però per lo scudetto forse ti hanno un po' tagliato fuori visto anche che tipo di percorso sta facendo il Napoli in ogni caso l'Inter comunque sappiamo che deve raggiungere almeno il posto Champions e vista la classifica fino a poco fa era giusto ragionare su quello perché non ce l'avamo ancora non pienamente quantomeno questa è una vittoria fondamentale più che altro per il percorso e per l'ambiente sembrano un po' frasi fatte però una sosta che dura due mesi è veramente molto più pesante della classica sosta natalizia che iniziava intorno al 20 dicembre ma finiva già dopo un paio di settimane qui ci sono due mesi si parlerà di mercato si sarebbe parlato di Inzaghi che viene esonerato eccetera eccetera è una vittoria fondamentale questa sera ci sono altre partite difficili per i nostri rivali quindi chissà che non possa succedere qualcosa attualmente siamo secondi a pari di Lazio e Milan che devono ancora giocare ma soprattutto ci prendiamo la vittoria in un big match come dicevi e l'approccio mentale di questa partita è una frase fatta anche questa però non ci resta da dire che continuare così cioè ripartire ripartiremo col Napoli quindi hai subito un altro banco di prova io voglio che l'approccio mentale sia questo poi il Napoli è fortissimo lo sappiamo ma l'approccio mentale deve essere questo perché i big match li vinci solo così verissimo verissimo ringrazio un attimo Easy V40 poi vi ringraziamo meglio durante la live fuori dalla clip grazie mille anche al nostro Armando e Umberto Manzoni per le super chat in diretta Simo ti chiedo un po' se ci fai un riepilogo di questa partita dove tra l'altro guardando dall'altra parte sì è vero l'Atalanta è scesa di intensità però una chiave stavamo dicendo anche in diretta anche le sostituzioni hanno fatto la differenza in negativo per l'Atalanta in positivo per l'Inter tu citavi Bellanova che è entrato molto bene anche lo stesso Correa mi è piaciuto come atteggiamento come come è entrato e come ha fatto è stato positivo poi non abbiamo finalizzato ma ci è andato vicino e dall'altro lato loro come ci avevano ingabbiato nel primo tempo con tanti uno contro uno duelli uno contro uno fanno una sostituzione che noi abbiamo faticato a capire con Malinowski che entra cambiano modulo passano una difesa a tre e mezzo è scomparso Scalvini a uomo su Barella Copmeiners non era più così insidioso sulla destra sul secondo palo dove avevamo avuto difficoltà nel primo tempo Pasalic su Cianoglu lo aveva schermato per quasi tutta la partita poi Cianoglu lo ha sovrastato demolito devastante ancora oggi Cianoglu e Gasperini ci ha un po' consegnato la partita così secondo me quindi dimmi che ne pensi se ci riepidoghi un po' anche l'occasione sì sì è stata una partita lo dicevi anche bene prima che è andata molto a fasi cioè l'Inter ha cominciato e finito male poi la fine chiaramente era soprattutto a causa dell'inerzia un'Atalanta che doveva pareggiare ha messo in campo 18 punte quindi era inevitabile soffrire un po' però ha tenuto molto e ha fatto bene nella parte centrale della partita dove magari a volte invece veniva un pochino a mancare purtroppo è arrivato questo rigore di Lukman al ventiquattresimo su un errore di De Vrij secondo me è veramente inconcepibile in ogni caso gol realizzato fino a quel momento non c'era stato chissà che cosa un paio di occasioni per l'Atalanta e un tiro di Di Marco centrale poi l'Inter ha iniziato un pochino a carburare il gol di Dzeko è arrivato al trentasettesimo ma era già almeno cinque minuti più o meno che l'Inter dava la sensazione di essere cresciuta o quantomeno di non soffrire la pressione più dell'Atalanta arriva il pareggio di Dzeko poi l'Inter continua un po' ad attaccare nella ripresa fino più o meno al gol di Lautaro appunto l'Inter di fatto gioca molto bene c'è un'occasione di Zapata al cinquantaquattresimo ma poi è solo Inter Dunfrisalato al cinquantatresimo Mkhitaryan alto al cinquantacinquesimo il gol al cinquantasettesimo Lautaro alto al sessantesimo e ancora gol al sessantaduesimo quindi un primo quarto d'ora a primi venti minuti dove l'Inter ha tenuto in mano la partita poi dicevamo una fase un po' di stallo con un tiro di Malinowski centrale nulla di più poi è arrivato questo maledetto gol di Palomino con Screener che se l'ha un po' perso e questo ha aperto un po' le porte a un ultimo quarto d'ora anzi venti minuti considerato il recupero di sofferenza totale forse senza il gol di Palomino avremmo sofferto un po' meno perché comunque fino a quel momento l'Inter era in gestione però sono cose che nei big match possono capitare obiettivamente e come dicevo prima per come la vedo io vale molto di più l'essere riuscito a tenere con grande forza e fermezza quei venti minuti finali che il non subire gol di Palomino che è anche episodico se vogliamo da calcio d'angolo quindi benissimo così sono d'accordissimo Contesimo mostro in chiusura la classifica attuale in attesa poi delle altre partite di oggi il Napoli a 41 l'Inter si riporta a 30 in attesa di Lazio e Milan scavalcando per il momento la Juventus che rimane a 28 stacca di tre punti l'Atalanta poi la Roma a 26 in attesa della partita anche della Roma Udinese a 24 ormai si è creato un po' il solco probabilmente qui con l'Udinese via via tutte le altre si ripartirà da qui per noi dopo la sosta 30 punti Simo nonostante tutti i problemi le difficoltà un'Inter brutta, pessima, tante cose che sono state dette fino a qui chiudiamo questa prima tornata con veramente troppi gol subiti pubblicheremo un'analisi a parte con questi 22 gol subiti in campionato più i gol in Champions comunque la zona Champions l'abbiamo sostanzialmente agganciata vediamo che cosa succede con le altre partite ma sostanzialmente la zona Champions l'abbiamo agganciata siamo agli ottavi di finale io oggi vedo un potenziale in più di crescita perché nei singoli ho visto un Dzeko ancora oggi devastante decisivo perché sembravano gli attaccanti un po' scollati e poi quando siamo saliti di ritmo Dzeko entra praticamente in tutte e tre le azioni dei gol Lautaro Martínez lo stesso è fondamentale con il suo lavoro Ceranoglu ha fatto una crescita impressionante è tornato Brozovic che sarà fondamentale e avremo un Mkhitaryan che potrà entrare a gara in corso sarà importantissimo anche Onana oggi ci ha fatto vedere quello che è il suo potenziale con alcune parate in termini di reattività fondamentali e nel momento più di difficoltà dell'Inter era uno sfogo in costruzione importantissimo secondo me recuperando tutti sperando anche in un big rom ripartiamo con un ritardo sì ma possiamo andare abbastanza lontano per me Eh sì io riparto all'ultimo cioè ragazzi Romelu Lukaku è un giocatore che in Italia non è che sposta travolge gli equilibri quindi ci stiamo dimenticando che abbiamo giocato quattro mesi senza il giocatore più forte di questa squadra o quantomeno tra i più forti è talmente particolare la sua situazione che dobbiamo anche diciamo avere prudenza e vedere che tipo di Lukaku troveremo però lo ritroveremo questa è la bella notizia e dobbiamo sicuramente migliorare queste due o tre cose che giustamente hai citato tu Lukaku sarà un'arma in più secondo me qualcosa va migliorato proprio a livello di mentalità di chi c'è perché per esempio la difesa non ha avuto grossi problemi fisici sono sempre quelli eppure i gol subiti sono tanti però insomma lo vedi anche sul lato destro della schermata quattro vittorie una sconfitta sono comunque risultati che ci possono stare dobbiamo riallineare giusto dei dati i pareggi innanzitutto che siamo ancora a zero credo siamo tipo tra i pochissimi in Europa e i gol subiti che sono spropositati rispetto a tutte le altre riallineando questi due parametri e con i pareggi di riflesso si riallinano le sconfitte quello voglio dire più o meno poi sei lì e poi ce la si gioca sui dettagli chiudiamo qui questa clip a parte arriveranno le pagelle con le nostre valutazioni sui giocatori dell'Inter scesi in campo in questa partita e poi tante altre analisi soprattutto durante la sosta quindi mi raccomando iscrivetevi al canale così non vi perdete assolutamente nulla e adesso vediamo cosa fanno le altre intanto noi la nostra importante vittoria finalmente l'abbiamo portata a casa non è tutto risolto ma abbiamo lanciato dei segnali molto incoraggianti grazie